Il servizio di Marco Mirabile. L'accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei capitali esportati illegalmente nelle banche elvetiche potrebbe essere sottoscritto entro la fine dell'anno. La firma potrebbe infatti arrivare già entro il 21 dicembre. Sarebbe un primo passo poiché l'eventuale accordo dovrà essere successivamente sottoposta alla ratifica da parte di entrambi i parlamenti. Ma quali sono i punti chiave? Resterebbe l'anonimato degli esportatori di capitali, ma le autorità svizzere ritasserebbero in base ad un'aliquota di riferimento che verrà stabilita nell'intesa bilaterale. Quello dei patti fiscali contrappone da tempo la Svizzera all'Unione Europea. Berna, tuttavia, ha già raggiunto accordi con Germania, Inghilterra e Austria. Uno dei punti più controversi è l'aliquota da applicare come sanatoria sul passato. Un tema che agita un po' con le forze politiche dei diversi paesi europei. In Germania, ad esempio, l'Espede è nettamente contraria all'accordo che deve ancora essere ratificato dalla Camera Bassa. Nel caso di Berlino, l'aliquota da applicare arriva al 40% del capitale esportato. In caso di accordo con l'Italia, l'aliquota dovrebbe invece essere più bassa. Per quanto riguarda i rendimenti dei conti correnti, dovrebbe essere in linea con quello applicato in Italia. La stima dei risparmi italiani in Svizzera dovrebbe aggirarsi attorno ai 160 miliardi di euro. Per la Svizzera, che ha intervallato trattative analoghe anche con Stati Uniti, Grecia ed altri paesi, si tratterebbe di un cambio di passo, conservando però i suoi capisaldo. Il rispetto della privacy è il segreto bancario. E allora io saluto e ringrazio Duccio Facchini, che è un collega di Altra Economia, che ha fatto proprio un'inchiesta sull'accordo svizzero. Tornando alle ultime parole del servizio di Mirabile, rimangono comunque la violazione della privacy, che è un reato addirittura federale in Svizzera e il segreto bancario che sembra essere molto un tabù per il resto d'Europa. E allora, che cosa bisogna fare? Ci si deve fidare solo degli svizzeri? Ma questo non lo so. Diciamo che quello che abbiamo potuto verificare insieme ad altre economie, al mensile per cui lavoro, è questo, che di fatto questi accordi bilaterali che sta stipulando la Svizzera con paesi europei, rappresentano di fatto un condono, una sanatoria, come l'ha ben definita il Ministro Giarda, ma certamente non rappresentano uno strumento di lotta all'evasione fiscale. I motivi sono due, uno di merito e uno di metodo. Quello di metodo è, come dicevi giustamente tu, che viene mantenuto il segreto bancario, che per gli svizzeri rappresenta un valore culturale, ma che di fatto per tanti evasori fiscali al mondo ha rappresentato, diciamo, un utile strumento per occultare capitali. Dall'altro rimane invece un problema di merito, ovvero sostanzialmente quanti soldi riusciamo a portare a casa, anche prediligendo una linea pragmatica. Secondo le proiezioni più prudenti, cioè mantenendo un'aliquota che è assai più bassa rispetto a quella tedesca, perché noi purtroppo abbiamo avuto di recente anche scudi fiscali che hanno azzerato il nostro potere contrattuale, anche mantenendo, poniamo, il 20%, i 30 miliardi che porteremmo a casa, tra virgolette, sarebbero una tantum, cioè noi li raccoglieremo una volta e poi basta, invece poi c'è l'imposta sui redditi da capitale. L'imposta che noi raccogliamo di 30 miliardi di euro andrebbe a coprire il nostro debito pubblico, che è di circa 2 mila miliardi di euro. Tutto questo per dire che cosa? Che a fronte di un ingresso, di un introito, sì importante, per l'amor di Dio, io 30 miliardi di euro non ho nemmeno idea di che cosa siano, sì importante, noi rinunciamo definitivamente a obbligare la Svizzera, come del resto il sistema OX ha cercato di fare, allo scambio automatico di informazioni, permettendo ai paesi europei, occidentali e del resto del mondo di chiedere alla Svizzera conto dei cittadini su cui gravano dei sospetti rispetto alla loro furbizia fiscale. Quindi noi l'abbiamo chiamato fortemente trappola, volutamente trappola, perché non si tratta di un strumento di contrasto all'evasione fiscale, ma si tratta sostanzialmente di una sconfitta. Poi si può essere favorevoli o contrari, per l'amor di Dio, non spetta a me giudicare, a me da giornalista spetta sollevare dei problemi, che peraltro ha sollevato anche l'Associazione Bancaria Italiana. Io non sono un difensore della corporazione bancaria italiana, però riconosco una cosa, che se concorriamo, se corriamo i 100 metri e tu, tra virgolette, sei in motorino e io sono a piedi, e per motorino intendo il mantenimento del segreto bancario svizzero e quindi garantire ai propri clienti l'anonimato, ci rendiamo conto che li percorri più velocemente di me. E questa cosa qui, diciamo, che pesa sull'ABI. Perché dico questo? Perché stipulando questi accordi la Svizzera esce, diciamo, dalle black list, cioè si ricostituisce una verginità internazionale. Ricostituendo questa verginità internazionale accede alla gestione del risparmio dei paesi con cui stipula gli accordi. Questo è un rischio e va detto. Ecco, Duccio, diciamo che poi c'è un'altra cosa. Ognuno ha le fuga di capitali, le preoccupazioni sulla fuga di capitali, insomma, da una parte o dall'altra. Ora, noi in Italia abbiamo paura della fuga di capitali verso la Svizzera e d'altra parte invece l'Associazione dei Banchieri Svizzeri auspica che l'aliquota forfettaria per regolarizzare i depositi nero detenuti dai clienti italiani nelle banche svizzere, oggetto appunto di questo accordo fiscale, sia ragionevole. Perché più alta è l'aliquota e più alto è il rischio della fuga di capitali dalla Svizzera. Però, attenzione, non all'Italia, ad altri paradisi fiscali, che sono peraltro già anche in Europa. Sì, capisco la versione dell'Associazione Bancaria Svizzera. Diciamo che hanno un piccolo conflitto di interessi, nel senso che da una parte sono coloro che detengono i capitali nei propri istituti, dall'altra sono quelli che è chiaro che anche, diciamo, parlando a nome dei propri clienti, hanno interesse a che l'aliquota rimanga bassa. Sulla aliquota però mi permetto di dire una cosa. Siamo davvero convinti che i contribuenti italiani, residenti in Italia, ma con capitali in istituti di credito svizzero, siano disposti a, tra virgolette, scudare a questo giro, dopo aver perso gli scudi fiscali precedenti, penso a quelli del governo Berlusconi. Siamo davvero convinti e, in subordinata, siamo davvero convinti che anche ad accordo vigente non vi sia uno spostamento di capitali, ad esempio, in altri paradisi fiscali, dove però ci siano filiali delle banche svizzere, ad esempio Singapore. Il professor Santoro o il professor Manzitti, che abbiamo intervistato nel reportage di Altra Economia, che trovate su YouTube, ci dicono che stanno, hanno, diciamo, la sensazione, alla luce di avvenimenti che, diciamo, riescono a monitorare, che stia già avvenendo questo, anche in paesi che già hanno sottoscritto l'accordo con la Svizzera, perché la data di entrata in vigore dell'accordo è successiva alla stipula e quindi nessuno può escludere che vi siano degli spostamenti ulteriori. Insomma, l'ingegno che si muove. Allora, grazie a Duccio Facchini di Altra Economia per essere stato con noi. Grazie a voi.